Oggi introduciamo velocemente un testo famosissimo della Gerusalemme liberata del settimo libro che è quello di Erminia tra i pastori. Noi abbiamo già visto Erminia all'inizio della Gerusalemme liberata, sta sul palazzo, sul tetto del palazzo di Gerusalemme insieme al padre Aladino e come succede nella famosa scena in cui Elena di Troia descrive dall'alto del palazzo delle mura di Troia a Priamo i guerrieri greci, allo stesso modo Erminia descrive i guerrieri che si scontrano nel campo di battaglia e con un discorso molto ambiguo che il padre ovviamente non comprende, confessa in realtà il suo ardente amore per Tancredi. Tancredi è rimasto ferito in questo episodio che andiamo oggi a leggere. Erminia ha rubato, altra citazione dall'Iliade anche questa, ha rubato l'armatura a Clorinda e così travestita ha cercato di avvicinarsi a Tancredi ma viene intercettata e inseguita da un gruppo di cavalieri cristiani ed ecco che la vediamo in fuga. Intanto Erminia ha infralombrose piante d'antica selva dal cavallo escorta, né più governa il fren, la man tremante e mezza quasi partra, viva e morta. Per tante strade si raggira e tante il corridor, cioè il cavallo, che in sua balia la porta che al fin dagli occhi altrui pur si dilegua ed è sover che ormai che altri la segua. Ed ecco che a lungo Erminia fugge lasciando che il cavallo faccia la strada, un po' come succedeva ad Angelica. La seconda ottava che saltiamo paragona gli inseguitori ai cani da caccia che a un certo punto perdono la traccia. Erminia dunque è salva, ma continua a fuggire spaventata. Vedete l'ottava 3. Fuggì tutta la notte e tutto il giorno errò, senza consigli e senza guida, non udendo e vedendo altro dintorno che le lacrime sue, che le sue strida. Attenzione, abbiamo paragonato questa fuga di Erminia alle famose fughe di Angelica, ma è ben altro il tormento di Erminia, il suo dolore. È molto più tragica la vicenda di Erminia. È lei che soffre per amore e la sua fuga è anche disperazione perché sa di aver perso per sempre il suo amore. Insomma, all'ottava 4 vediamo che non prende cibo, continua a piangere, a disperarsi e il sonno che per Angelica arrivava semplicemente nel momento in cui trovava un rifugio al sicuro, qui arriva per lo sfinimento dovuto alle troppe lacrime. Bene, ecco che improvvisamente la vicenda di Erminia trova una sorta di soluzione. Infatti, all'alba, Erminia sente dei dolcissimi rumori. Sono i belati del gregge, sono le campanelle e i suoni della natura, sono, egli vede arrivare, le voci di richiamo dei pastori o canti di fanciulli. Un vecchio pastore, una sorta di patriarca, accoglie Erminia. L'accoglie e dimostra, presentando la sua famiglia e la sua vita, dimostra qual è lo stato del pastore. Egli dice Altrui vita e negletta a me si cara, è appunto la povertà, la vita povera del pastore, che non bramo tesoro, né regalverga, cioè poteri, né cura o voglia ambiziosa o avara mai, nel tranquillo mio petto alberga. Spengo la setemia nell'acqua chiara, che non temo che divenenza sperga, e questa greggia e l'orticella dispensa cibi non compri, alla mia parca mensa. Ecco, in questa ottava possiamo riassumere l'ideale di vita di questo pastore. Non è semplicemente una vita tranquilla, è una vita, come possiamo dire, è il modello della vita dell'Ozium Epicureo, dei latini. Quando Virgilio scriveva Le Bucoliche, idealizzava il mondo dei pastori come un mondo in cui la quiete, la bellezza della natura e la povertà della vita semplificavano la vita. La vita del pastore è lontana dalle ambizioni, è lontana anche dai pericoli che l'ambizione, la competizione, la guerra, la ricerca di denaro, la ricerca di potere politico possono dare alla vita. È la rinuncia a queste passioni, è la rinuncia a Epicurea, a quelle passioni che rendono la vita così complicata, dolorosa e faticosa. L'ideale di vita Epicureo è l'Atebiosas, vivi nascosto, ed è appunto nascosto nelle foreste profonde questo mondo dei pastori che Erminia scopre per caso. I pastori vivono fuori dalla storia, lontani dalla guerra, e vivono una vita, come ha detto il nostro vecchio patriarca, che non brama ricchezze, né regalverga, cioè né potere politico, non hanno passioni o voglie ambiziose, non hanno ambizioni i pastori, non sono avari, il cuore è sempre tranquillo. La loro vita è semplicissima, l'acqua è sufficiente a spegnere la sete, un orticello e le pecore possono fornire il cibo. Non c'è bisogno d'altro per essere felici. Ecco, questo era l'ideale del mondo pastorale che Tasso mutua e riprende proprio dal modello virgiliano, bucolico. Ecco che poi il pastore dice poco è il desiderio e poco è il nostro bisogno, onde la vita si conservi. Quindi è un ideale di vita lontano dalla, ripeto, dalle passioni, dai desideri, una vita semplice e perciò stabile e serena. Sono figli miei questi che addito e mostro, custodi della mandria, non osservi. Così che me ne vivo in solitario chiostro, saltar veggendo i capri, i snelli e i cervi e i pesci guizzar di questo fiume e spiegarli a gioelletti alcelle piume. Vedete che la vita del pastore sembra anche di tutto riposo. Il pastore ascolta i suoni e osserva la bellezza della natura e degli animali e in questa bellezza invita Erminia a curare i propri mali. La bellezza della natura, la pace, la serenità degli animali, la semplicità di questa vita possono essere un rifugio, possono essere una salvezza. Mentre Ehi così ragiona, riprendiamo a leggere all'ottava 14, Erminia prende dalla sua ave bocca in tenta e cheta e quel saggio parlare calcò le scende dei sensi in parte e le procelle acquieta. Ecco, quelle parole, quella serenità del vecchio pastore acquietano le procelle, cioè le tempeste del cuore di questa ragazza così delusa dalla vita. Dopo molto pensare, consiglio prende in quella solitudine secreta insino a tanto almen farne soggiorno cagevoli fortuna e il suo ritorno. Cioè decide di rimanere un po' lì al sicuro finché la fortuna magari non le permetterà il ritorno. Ed ecco che nella parte finale lei chiede di essere accolta e il vecchio di buon grado l'accoglie in famiglia, si spoglia delle sue vesti regali, dei suoi gioielli e sfogando il suo dolore, confessando le sue disavventure al vecchio, finalmente trova una sorta di ristoro, di pace e di conforto. Versando dei begli occhi fora, umor di doglia cristallino e vago, cioè tante lacrime, parte narrò di sue fortune e intanto il pietoso pastor pianse al suo pianto. Vedete che pastori sensibili, eh? I pastori di Virgilio sono così, non certo sono così magari i pastori reali, eh? Ma qui parliamo di un mito, il mito del mondo pastorale che è transitato appunto dalle bucoliche virgiliane all'immaginario di Tasso. Poi dolce la consola, ecco, e si l'accoglie come tuttarda di paterno zelo e la conduce ov'è l'antica moglie che di conforme cor gli ha dato il cielo. Ecco, anche la moglie è altrettanto saggia e pietosa. La fanciulla regal di roze e spoglie si ammanta ecco, prende un vestito rozzo e cinge al crin a ruvido velo ma nel moto degli occhi e nelle membra non c'ha di boschi abitatrice sembra ovviamente mantiene il portamento la bellezza e lo sguardo della principessa ed ecco Erminia cura le ferite d'amore un po' come diceva come invitava Virgilio a fare al suo amico Cornelio Gallo non e la decima bucolica sovente allor che sugli estivi ardori giacea le pecorelle all'ombra sise nella scorza dei fagge e degli allori segnò l'amato nome in mille guise e dei suoi strani infelici amori gli aspri successi mille piante incise e rileggendo poi le proprie note rigò di belle lacrime le gote attenzione qui Tasso cita Ariosso ricordate la follia di Orlando Orlando quando giunge nel mondo dei pastori alla ricerca di Angelica prima di tutto trova un bosco dove gli alberi hanno cortecce incise con le iniziali o i nomi di Angelica e Medoro in mille nodi in mille guise scritti tant'è che egli si sforza di darsi una spiegazione che non sia quella più evidente cerca di fare in modo che non sia proprio vero ciò che vede scritto sul tronco ebbene qui Erminia non fa altro che scrivere i nomi suo e dell'amato in mille tronchi quindi veramente qui Tasso sta citando l'Orlando Furioso Indi diceva piangendo in voi serbate questa dolente storia mi che piante perché se fiacca le vostre ombre grate e giamai soggiorni alcun fedele amante senta svegliarsi al cor dolce pietate delle sventure mie si va riettante e dica ah troppo ingiusta empia mercede di è fortuna ed amore a si gran fede avete capito nella natura ella cerca di consolare il suo dolore si sfoga si rivolge alle piante così come faceva il grande modello di Tasso l'altro grande modello il Petrarca ricordate chiare fresche dolci acque il poeta si rivolge alle piante alle acque a tutto un ambiente che ricorda il passaggio di Laura ed egli spera che lì possa essere sepolto perché lei un giorno torni ed abbia trovando il suo sepolcro abbia pietà di un amante morto piangendo per amore invocando il suo nome ecco all'ottava 21 troviamo una citazione precisissima quasi letterale della parte finale della canzone petrarchesca chiare fresche dolci acque ed ecco che la leggiamo forse avverrà se il celbe nino ascolta affettuoso alcun prego mortale che venga in queste selve ancora talvolta quegli a cui di me forse ora nulla cale ecco tempo verrà ancora forse in cui verrà la fera bella e manzueta dice petrarca in cui ritroviamo appunto questo il desiderio che la persona amata che è feroce dice petrarca invece tasso fa dire erminia quello a cui di me non importa nulla nulla cale non importa nulla venga qui e riprendo a leggere rivolgendo gli occhi ove sepolta giacerà questa spoglia inferma e frale tardo premio concede ai miei martiri di poche lacrimette e di sospiri cioè come nella canzone petrarchesca erminia si augura che tancredi rivolgendo gli occhi e trovando la tomba la sepoltura di questa spoglia inferma e fragile cioè di erminia stessa del suo corpo così sofferente possa concedere un tributo di pietà alla sofferenza amorosa di questa creatura commuovendosi versando qualche lacrimetta qualche sospiro è la stessa cosa che si augura che faccia Laura che Petrarca si augura che faccia Laura sul suo sepolcro onde se in vita il cor misero fue sia lo spirito in morte almeno felice e il cener freddo delle fiamme sue goda quel cor godere a meno lice ecco che torna il binomio tanto caro a tasso che abbiamo visto in altri testi nella minta anch'essa anche la minta ricorderete la favola boschereccia è ambientata in un ambiente pastorale idealizzato dicevo ritorna anche in queste parole finali di Erminia il binomio tanto caro a tasso di amore e morte di Eros e Thanatos l'Eros non può essere vissuto liberamente non può essere gioia della vita e allora almeno dopo la morte attraverso la morte possa esservi un tardivo è contatto una tardiva consolazione anche se ormai lontana dalle gioie della carne dalle gioie dell'amore fisico e concreto possa essere consolazione una sorta di tardiva accettazione pietà dell'amore della donna in questo caso dell'amore dell'amante rifiutato e quindi possa godere quel cenere freddo delle fiamme dell'amore notate l'antitesi freddo fiamme goda quel che godere a menollice è ovviamente un godimento ormai incorporeo possa godere l'anima di quella di quell'amore o meglio di quella pietà di Tancredi che adesso non mi è lecita godere vedete come anche qui c'è un'antitesi tra una sorta di godimento che è una consolazione dell'anima e il godimento fisico che le ha negato così ragiona ai sordi tronchi e due fonti di pianto dai begli occhi elice e con questo elice che è un altro elemento da notare è questo lessico altissimo latineggiante ricercato che fa parte dell'arte di tasso che è un'arte scopertamente retorica enfatica altisonante che ha rinunciato alla semplicità alla naturalezza del verso e dell'essico ariostesco e che va verso il gusto manieristico ecco ci salutiamo concludendo questa passeggiata nel mondo mitizzato dei pastori e nel mondo delle citazioni letterarie di tasso dal Virgilio tanto amato al Petrarca sempre imitato a presto